Il primo lotto di lavori per la realizzazione del terzo valico comprende per il 90% opere funzionali all'attività di scavo della galleria principale. Si partirà dall'apertura degli uffici e dei campi base. Queste attività si annunciano particolarmente delicate, in quanto prevedono un numero di espropri che supera la cinquantina e che riguarda abitazioni, attività commerciali e industriali e attività agricole. I comuni interessati sono quelli di Genova, Campomorone e Ceranesi. In Valpolcevera sono ben sette i cantieri previsti, concentrati in particolare nelle zone di Trasta, Feggino, Bolzaneto e San Quirico. Sette sono anche gli anni previsti per portare a termine i lavori, che dovrebbero concludersi quindi nel 2019. L'opera, la cui lunghezza totale raggiunge 53 km, comprenderà una galleria di 39 km, che dovrà forare gli appennini e uscire nella piana di Libarna, tra Serra Valle Scrivia e Tortona. Grazie. 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 Grazie.